La nostra capogruppo Finocchiaro ha chiesto che Schifani si presenti in aula e spieghi che cosa è successo. Si parta da lì, ecco, e non si mettono davanti dei formalismi, perché cambiare in corso d'opera a seggi aperti un senatore che aveva espresso una sua opinione, una sua intenzione, vuol dire essere avanti con i lavori, molto avanti, un po' troppo secondo me.